ciao a tutti ragazzi come sempre qui agonista eccoci in un nuovo video premetto già che per chi non stia seguendo pokemon go anche qui mi scuso per non aver passato per un po ma ho fatto anche io le vacanze sono stato un attimo in chill ora riprenderemo con il tutorial partiamo dal farmer per chi ha il primo armi cerca di capire come costruire il proprio farmer e di base sarà il suo personaggio iniziale come ho sempre detto in molti altri video precedenti ora darò qualche consiglio basilare subito dopo la sigla allora ragazzi partiamo dicendo subito che questo video non è fatto per mostrare come costruire un farmer che vada velocissimo è fatto per chi deve ancora costruire il suo primo farmer che lo porterà poi a buildare i personaggi che gli servivano successivamente nella campagna per creare farmer efficienti e così via andremo poi in altri video a studiare quali sono i personaggi migliori per fare farming eccetera per il momento limitatevi ad usare il vostro personaggio starter per chi non sa ancora che cos'è un farmer il farmer è quel personaggio che alla difficoltà brutale della campagna allo stage 12 quando svolgete il sentiero 3 o il sentiero 6 lui da solo dato che è a livello 60 con i dovuti upgrade riuscirà a terminare il livello poiché voi gli assegnerete come squadra tre pipette che dopo averli fatto terminare il livello al vostro personaggio che ha il 60 quindi non può più prendere esperienza le tre pipette che sono morte all'inizio prenderanno l'esperienza se la divideranno questo cosa serve a far sì che costruiate dei personaggi pipette da dare da mangiare personaggi che voi volete buildare facendogli fare così le stelle portando così la vostra squadra verso il tanto bramato livello 60 quindi questo personaggio qui è il primo personaggio che voi dovete cercare di portare a 60 e di base a parte rari casi se avete fortuna come per esempio avuto io è il vostro starter poi piano piano costruendo arrivando a prendere oggetti sei stelle eccetera riuscirete ad avere farmer che vi farmano in 20 secondi lo stage o anche in 7 secondi e quindi a consumare l'energia molto velocemente e a fare esperienza molto velocemente costruendo così dei campioni in molto meno tempo all'inizio ovviamente ragazzi tutti devono faticare allora ragazzi il primo consiglio è ovviamente quello che nella vostra sala maggiore cerchiate di upare la precisione del tipo del vostro farmer che se appunto utilizzate il vostro personaggio iniziale sarà dell'icona blu aumentate la precisione e il danno di che vi serviranno a far sì che il vostro personaggio faccia il più male possibile e che le sue abilità vadano segno al meglio possibile dopo aver scelto il vostro farmer l'altra cosa che dovete fare è riuscire a mettergli le maestrie il primo possibile quindi le 800 gemme che fate dalla vostra miniera le investite nelle maestrie di questo personaggio premendo il più per chi si sta chiedendo cosa dico consiglio il video precedente per capire cosa vuol dire spendere 800 gemme per le maestrie di un personaggio bene vi date il vostro set secondo quello che dice il sito ayumi love e ora andremo a vedere quali manufatti si consigliano per appunto il vostro farmer inizialmente non avrete oggetti 6 stelle ne avrete pochi o quasi nessuno anche io al momento non ne ho equipaggiati sul farmer che attualmente sto utilizzando che è anima arcaica però comunque riesce a farsi il suo bello stage in difficoltà brutale stage 12 di sentiero 6 in tranquillità il suo minutino se lo fa e come fa a curarsi un personaggio di tipo attacco perché tutti gli starter sono di tipo attacco e i farmer sono di tipo attacco ovviamente ci sono delle eccezioni che poi andremo a vedere in un apposito video ma come fa un personaggio di tipo attacco a arrivare fino alla fine se non ha un personaggio che lo cura qui entra in gioco i manufatti ruba vita entrano in gioco che equipaggiando le quattro al vostro personaggio attivano una sinergia per il quale lui guarisce per il 30 per cento del danno inferto quindi se ha tanto attacco lo fate guarire lui recupera la vita e riesce a portare a casa lo stage oltre a questo ovviamente dipende dal personaggio che utilizzate dovete aumentare o il danno di o il tasso di a discrezione del personaggio con degli oggetti io per esempio dato che so che a danni marcaica serve tanto tasso di e danno di come vedete ho cercato di mettere degli oggetti che glielo aumentassero nelle sottostatistiche e ovviamente come altre sinergia attivato equipaggiamento tasso di eccessività che se ha due manufatti di serie aumenta del 12 per cento il tasso di eccessività oltre a queste due cose dovete prestare attenzione all'attacco che si è elevato agli hp e all'accuratezza ragazzi cioè che i vostri colpi vadano a segno perché per esempio prendendo galek che io sto cercando di buildare per far diventare il prossimo farmer così da poter usare anima arcaica al meglio nell'arena a delle degli attacchi hanno il 15 per cento di probabilità di infliggere un colpo decisivo extra se voi aumentate l'accuratezza ovviamente avete più possibilità che queste cose vadano a segno quindi è importante questa cosa in più più è veloce il vostro personaggio con i turni di call delle abilità diminuiscono più ovviamente avete più possibilità di mandare a segno le cose quindi se sapete che utilizzerete questo personaggio quasi sicuramente tomatelo cioè mettete lì tomi rari che i tomi rari sono abbastanza easy da trovare io per esempio anima arcaica non l'ho ancora full tomata e sto sbagliando ma perché sono io un po paranoico con i tomi ragazzi voi metteteli anzi penso che alla fine di questo video li metterò anch'io bene detto questo quindi riassumendo dovete portare il vostro personaggio primario a 60 e mettete un'armatura full rubavita che appunto viene presa o nell'antro del drago pure in campagna nello stage dello stretto di vladr il numero 8 e niente dopo aver creato un buon set rubavita che ha appunto come sotto statistiche almeno l'accuratezza l'attacco e gli hp vi lanciate nella difficoltà brutale 12 mettete a seguito del vostro farm delle pippette farmate così che poi vi costruirete una bella squadra per andare poi studiare l'arena eccetera spero che il tutorial per creare il primo farmer sia stato abbastanza utile so che non è esaustivo se avete delle domande fate pure nei commenti se avete accorgimento iscrivete pure perché impariamo tutti insieme mentre io full tomo anima arcaica vi lascio qui ciao a tutti ragazzi ci vediamo in un prossimo video